Ebbene ci siamo, faccio il video dalla cameretta dove mi sono trovato in quel momento in cui mi sono fermato e devo fare il video perché bisogna comunicare questa notizia importante. È fatta, De Kettler, ve lo comunico ufficialmente, è un giocatore del Milan. Siamo alla stesura finale dei piccoli dettagli del contratto ma è cosa bella è fatta. Quindi De Kettler dovrebbe arrivare stasera, domani mattina a Milano con l'aereo. Sarà accolto ovviamente da diverse decine di tifosi spero perché è un ragazzo fantastico per quello che ha voluto fare per il Milan. Ve lo riconfermo, De Kettler è fatta. Ci siamo ragazzi alla faccia di tutti quelli che non ci credevano, di tutti i detrattori che dicevano che il giocatore non sarebbe mai arrivato. Ma non importa, siamo tutti rossoneri, siamo tutti milanisti, va bene così. Però questo, a chi non credeva, deve insegnare che bisogna sempre credere nelle operazioni che fa il Milan, che fanno Maldini e Massara. È vero, abbiamo inseguito per un mese, per tante settimane. Ma alla fine, quello che conta è che De Kettler, CDK, sarà un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Quindi ve lo confermo, De Kettler è fatta. Oggi una mattina sarà a Milano e dopo poche ore lo vedrete alzare la maglietta del Milan, molto probabilmente con il suo numero 90. Sono troppo contento, sono felicissimo ovviamente e credo e spero anche voi. Vi rimando più tardi domani, buona giornata e sempre adieu e forza CDK!